In un momento così particolare, così complesso dal punto di vista economico-finanziario, Banca Generali decide di investire e lo fa sulle competenze e sulla professionalità. Sì, questo è un periodo particolarmente complesso per la gestione dei risparmi, come piace dire a noi per gestire progetti di vita, perché in realtà spesso il risparmio, il denaro, viene considerato più un fine, mentre invece in realtà è un mezzo per realizzare gli impegni delle famiglie, per realizzare gli obiettivi delle imprese. Noi cerchiamo di stare vicino al territorio, il modo migliore per dare risposte concrete alle famiglie e alle imprese è quello di essere presenti, di essere vicini e aprire le porte con le nostre sedi a chi ha bisogno di trovare suggerimenti in un momento come questo particolarmente incerto per il futuro dei mercati finanziari. Ecco, e dal punto di vista di territorio, del valore del territorio, con questa sede quante sono quelle operative in Piemonte e quante persone lavoreranno, lavorano nella sede astigiana? Per noi il Piemonte è una regione strategica, una regione importante, fa parte del tessuto produttivo tra delle regioni più importanti d'Italia. Siamo presenti in tutto il Piemonte con 175 colleghi professionisti, private banker e wealth advisor che gestiscono quasi 7 miliardi di euro in 21 sedi. Qui ad Asti oggi inauguriamo una sede che in realtà abbiamo aperto durante il Covid, quindi quasi due anni fa non abbiamo avuto l'occasione di poterla svelare, diciamo aprire ufficialmente alla città prima, però siamo particolarmente orgogliosi di dare una bellissima casa agli 11 colleghi che gestiscono circa mezzo miliardo di asset che se la meritavano per il grande impegno e la grande crescita che hanno avuto in questi anni. I nuovi spazi di Piazza Statuto sono dedicati alla consulenza patrimoniale delle famiglie nel pieno centro storico della città, in una location completamente rinnovata e improntata alla sostenibilità. I locali sono stati quindi concepiti cercando di minimizzare l'impatto ambientale e tenendo al centro l'efficientamento energetico, un approccio in linea con gli obiettivi del piano industriale di Banca Generali per il 2024. Con la nuova sede di Asti sale a 21 il numero di sedi dislocate ad Acquiterme, Alba, Alessandria, Biella, Borgomanereo, Cuneo, Gattinara, Moncalieri, Novara, Pinerolo, Saluzzo, Torino, Tortona, Verbania e Vercelli. Asti e il Piemonte rappresentano un'area in forte crescita e centrale all'interno del progetto di sviluppo commerciale di Banca Generali. Negli ultimi due anni, infatti, la raccolta delle famiglie locali è cresciuta del 20%. Ad oggi i private banker e wealth advisor gestiscono oltre 500 milioni di euro per le famiglie del territorio. Nella nuova sede di Asti attualmente operano 11 consulenti finanziari. Grazie a tutti.